Noi abbiamo un ragazzo, così lo dico, che si chiama Fagioli, che è un 2001. Vedere a giocare a calcio quel ragazzo lì è un piacere, perché è un ragazzo del 2001 che conosce il calcio, che conosce i tempi di gioco, che sa come ci si smarca, quando si passa la palla, come si passa la palla. È bello vedertelo giocare. Grazie a tutti. Va dentro, vedo lo scambio a Fagioli. Ma cosa si è inventato? Niccolò Fagioli praticamente era termo. Questa è bella anche questa abbraccia, non so se si è anche commosso il ragazzo. Grazie a tutti. 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 Pagioni in destra, hanno doppiato la Juventus. Pagioni in destra, hanno doppiato la Juventus.